Oggi credo che sia arrivato il momento per chiarire una volta per tutte questa posizione che non può andare oltre, tanto è vero che c'è il rischio della condizionalità dello Stato di diritto e quindi i cittadini polacchi non possono restare esclusi da questo momento di grande ripartenza che è generato dalle risorse del Next Generation. Quindi non mi convince questa posizione soprattutto perché non si può essere europei a giorni alterni e in questo momento bisogna invece rafforzare l'unità di intenti.